Grazie, un abbraccio molto forte, ciao ciao. Kenwood TS-890S, apparecchio AKF, prime prove di ascolto in banda 40 metri, molto bello lo strumento, molto bello il display, il waterfall, banda scope. Andiamo a selezionare le altre possibilità di visione. Spento. L'audioscope. Andiamo a un minuto di attenzione di 10 dB. Ok. Andiamo a tenere ancora un po', vediamo cosa succede. 20 dB. 30 dB. 0 dB. 0 dB. Papa Whisky Radio, è corretto? Papa Golf Romeo, Golf Romeo. O K, Papa Golf Romeo, aiuto. Così. Perfetto, 659, Mike India 500. Abbiamo così la visualizzazione simultanea sia del bandoscope che dell'audioscope. 500, buon pomeriggio, il W8 Papa Golf Romeo. Perfetto, il W8 Papa. E tutto questo azionando semplicemente questo tasto con l'indicazione SCP, Sierra Charlie Papa. Allora, lo provo nuovamente. Lo è spento. Bando scope normale. Seconda pressione è esteso. E poi solo il waterfall senza il bandoscope completo. Veramente molto molto bello. Bellissima la qualità del display. Un semi-touch screen. Semi-touch screen perché rispetto al 7610 della iPhone, per esempio, che è qua a fianco. Questo qui non posso andare a toccare ogni punto dello schermo con una funzione diversa. Tipo questa e qui al lato. Ma queste sono comandate da questi piccoli tastini. Le frequenze vengono impostate dalla tastiera. Però posso andare a premere l'indicazione dello strumento, per esempio. Adesso è nella versione nera, che a me personalmente piace maggiormente. Però con una pressione abbiamo lo strumento a barre grafiche. Che consente la visualizzazione simultanea di più parametri, in questo caso. Questo è anche molto bello. Sembra effettivamente uno strumento old style. Magari nel video non mi sembrerà, ma nella visualizzazione effettiva sembra uno strumento ad ago reale, non digitalizzato. E ha quel minimo senso di profondità che sembra essere realmente oltre lo schermo. Io lo tengo con questa visualizzazione con contrasto nero, che mi piace di più. Però anche qui l'effetto luminoso che c'è su tutto il contorno dà quell'idea come se fosse oltre questo schermo. Ci fosse uno schermetto di plastico, come era sui vecchi apparecchi radio, piuttosto che dietro lo strumento analogico. Veramente molto molto bello e gradevole da vedersi. Bene, io vi ringrazio per aver visto questo video introduttivo sul Kenwood ETS 890. Lo farei parlare da sé ascoltando un po' questa stazione e poi mi sposto e vado ad ascoltare qualche altra stazione. Vi invito al prossimo video sul mio canale YouTube. I veri YouTuber dicono di mettere un like e lasciare eventuali commenti. Io lo faccio a livello amatoriale, quindi fate un po' voi. Grazie. Grazie. Ok, Oscar Echo 4, Golf Tank Uniformer 5 e 9, Maikinia 5 0 0. Rocha Rocha, you are 5 9, Charlie Alpha 0 3 9, Charlie Alpha 0 3 9, could you tell me? No, negative, again, again the number, Charlie Alpha 0 3 9. Faccio notare il fortissimo segnale adiacente. Andiamo ad ascoltare quelle forte. Andiamo ad ascoltare quelle forte. Buonasera, questa è la IS-0 Delta Sierra Whisky C9+. Sì S0 Delta Sierra Whisky C5 9 più qui a Napoli anche il nome Gianni, QSL. Sì QSL Gianni, ben ascoltato, 925 qui in Olbia. Roger? Sì QSL, grazie mille, la propagazione è buona questa sera. Ciao, grazie. Grazie a te, ciao 733, buona attività. Ciao. Voglio solo far notare l'assenza totale di disturbo nonostante il segnale è molto forte sulla frequenza adiacente. a pochissimi kHz di distanza. Ciao. 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 di promosso, Lima, Florida, Hotel. Lima, Florida, Hotel, buonasera, anche te, carissima, Anna Maria, 5,9 più 10, nave maritena, Golfo di Napoli. Grazie, 6,59, anche tu, 73, buon proseguimento. Ciao, cara, grazie, quale Zeta? Italia, chilometro alto? Uniforma, delta, 1,1. Uniforma, delta, 1,1, ecco qua, Nicola, 5,9, e 15 punti di gol da Napoli, grazie. Grazie a te, grazie, grazie. Ancora, QRZeta. Bravo, Giuliette Bava, buonasera, Antonio. 5,9 e 15 punti da Napoli. E se si va, no, forza, non mi sembra, ma in via. E se si va, per la continuazione. Ciao, grazie, Palermo, QRZeta. Questo è Kenwood TS 890S, grazie ancora a tutti e al prossimo video.